Caro Sagittario, il tuo hashtag per il nuovo anno è giustizia è fatta. Io sono Simon and the Stars e ti do il benvenuto nel tuo 2022. Un hashtag importante che racchiude tutto il senso profondo della vita di molti nati del segno negli ultimi anni. Perché diciamolo chiaramente, il Sagittario è un segno ottimista, è governato dalla fiducia, tende a vedere sempre il buono in tutti e in tutto, però negli ultimi anni qualcuno se n'è un po' approfittato. È stato un po' il Sagittario che ha abbassato la guardia, che non ha notato certe situazioni che dovevano metterlo in allarme, ha preferito chiudere un occhio e negli ultimi anni ha dovuto proprio lottare, in certi casi anche per le vie legali, per riprendersi ciò che gli era stato portato via o per difendersi da un'accusa. Questo è un aspetto. Un altro aspetto importante è stato che il Sagittario negli ultimi anni spesso si è sentito bloccato o al palo di certe responsabilità, di certi impegni legati alla famiglia. Quindi, a dispetto della sua natura di grande viaggiatore, di grande esploratore, di segno perennemente in movimento, molti sono stati proprio fermi, bloccati. E allora, questo 2021, la parte finale, ed il 2022, sono proprio gli anni che gli restituiscono quelle che sono le cose che gli sono state sottratte. Un danno sul lavoro, un danno sui soldi, qualcuno che si è approfittato di certe situazioni, tutto vero, ma prima ancora gli restituiscono la sua patente di Sagittario, la possibilità di tornare a viaggiare, la possibilità di muoversi di più, di dedicarsi alle proprie cose senza tenere un occhio costante su tutto e su tutti, soprattutto sulla famiglia. Mi sembra perfetto il caso di Britney Spears, che ha proprio avuto entrambe queste situazioni, cioè delle battaglie legali per riprendersi ciò che le aspettava di diritto e una serie di blocchi che nascevano proprio dalla famiglia. E guarda caso, Britney Spears, alla fine del 2021, festeggia il suo quarantesimo compleanno e lo festeggia con un viaggio, una cosa piccola, semplice, ma che in passato non avrebbe potuto fare perché soggetta alla tutela del padre. Allora, qui dentro c'è proprio tutta questa trasformazione di un Sagittario che, tra la fine del 2021 e del 2022, ottiene giustizia, si riprende quello che gli è stato portato via, ma soprattutto torna a muoversi. Questo di Britney Spears chiaramente è un esempio eclatante. Nella maggior parte dei casi non c'è stato un vero e proprio contrasto con la famiglia, quanto piuttosto una difficoltà del Sagittario di mettere i propri confini, di stabilire i propri paletti e di coltivare le proprie aspirazioni a dispetto di una serie di esigenze familiari che poi chiaramente sono la normalità in qualche modo, però l'importante è saper trovare anche un equilibrio, un compromesso tra le radici e ciò a cui appartengo e le fronde e quindi la direzione personale che voglio seguire. Ecco, forse il 2022 è proprio un anno decisivo nello stabilire un giusto compromesso tra questi due valori. Entrando un po' nello specifico dei transiti abbiamo nel 2022 un bellissimo Giove a favore dal segno dell'Ariete nella quinta casa, quindi la casa della creatività, dell'espressione, del benessere, per certi versi anche della fortuna dalla metà di maggio fino alla fine di ottobre e poi nuovamente dalla seconda metà di dicembre per buona parte del 2023. Quindi in realtà 2022 e 2023 sono due anni che hanno una grande continuità e sono unificati da questo Giove a favore. Solamente i primi quattro mesi dell'anno hanno un Giove in quadratura dal segno dei pesci nella quarta casa, che è proprio la casa delle radici, della casa della famiglia, e sono un momento in cui c'è bisogno di radicare meglio certe situazioni, probabilmente chi ha chiuso l'anno con un cambiamento ha bisogno di ambientarsi, di stabilire nuovi punti fermi, chi ha invece bisogno di apportarlo un cambiamento deve probabilmente settare una rotta, in certi casi proprio anche prendendo delle decisioni che lo portano su una strada più libera e più indipendente rispetto alla famiglia, ancora una volta. Entrando più nel merito del lavoro, diciamo che per molti nati del segno il 2021 si è chiuso con delle occasioni importanti, la luna nuova in Sagittario dei primi di dicembre ha aperto degli scenari diversi, ha creato delle nuove opportunità, per cui sicuramente molti entrano nel nuovo anno con il piede giusto. E da questo punto di vista i primi mesi hanno proprio il senso di un assestamento, di un aggiustare il tiro, di un mandare a regime certe novità, ambientarsi in nuove situazioni, per cui sicuramente diciamo che sono più impegnativi, ma poi dalla metà di maggio giove passa in ariete e le cose cominciano davvero a prendere una velocità, un brio diverso e a crescere di importanza. Per chi invece continua in una situazione di lavoro tutto sommato non appagante, i primi quattro mesi dell'anno potrebbero essere un momento in cui ci si comincia a chiedere io cosa ci faccio in questa situazione, si cominciano a cercare nuovi sbocchi, si comincia anche a sentire una certa insofferenza, specie per chi si sente le mani legate, per chi sente un desiderio di muoversi più liberamente, di avere più spazio d'autonomia, arrivando ad un momento ad aprile dove anche Marte e Venere raggiungono giove in pesce e dove ci può essere proprio un massimo dell'insofferenza. È un momento che dura pochissimo perché come dicevo già da metà maggio giove torna a favore ed è lì che o certe situazioni si aggiustano con degli accordi migliorativi, con delle concessioni perché danno maggiore spazio d'autonomia oppure ci sono le migliori opportunità per mettere un punto e per cambiare strada. Quindi il consiglio è anche se certe situazioni non scorrono bene di non essere affrettati a chiuderle nei primi quattro mesi ma di aspettare la tarda primavera soprattutto perché non bisogna fare passi azzardati dal punto di vista economico. Molti sagittari anche se il 2021 è stato di ripresa arrivano fin qui con le finanze non floridissime e quindi non bisogna mettere un punto per rabbia, per reazione ma costruire una strada più sicura e soprattutto aspettare la tarda primavera dove arriva davvero il grosso delle occasioni anche in termini economici. Nei primi mesi dell'anno potrebbero esserci anche delle questioni da gestire che riguardano una casa penso a chi deve traslocare, a chi ne sta cercando una nuova penso anche a chi ha delle questioni con i parenti che riguardano un immobile, delle tensioni anche da questo punto di vista andiamo verso una tarda primavera che risolve ma soprattutto non bisogna lasciarsi distrarre perché veramente il sagittario in un nuovo anno costruisce moltissimo e quei più di quattro mesi sono davvero importanti proprio per sedimentare tutta una serie di novità. Prima parlavo anche di un sagittario in cerca di libertà, di maggiore autonomia, di maggiore indipendenza e questo mi fa pensare anche ai più giovani che sentiranno molto forte nel corso dell'anno proprio il bisogno di prendere la propria strada, di andare a vivere da soli, di rendersi più indipendenti in certi casi anche di lasciare un paese d'origine che offre minori opportunità alla volta di una grande città o comunque di una situazione che possa valorizzarli di più. anche qui nei primi quattro mesi bisogna un po' capire come si può fare, in che tempi anche lottare per sciogliere un po' di nodi, un po' di resistenze e poi si prende il volo a partire dalla tarda primavera che come avrete capito rappresenta veramente un giro di boi importante nel corso dell'anno. E passiamo all'amore, dicendo subito che il 2022 è un anno di grande costruzione per le coppie soprattutto sul fronte della casa e quindi del desiderio di andare a vivere insieme di trovare una nuova casa, di allargare la famiglia per cui è sicuramente un anno di grandi progetti alcuni si realizzano nel corso del 2022 altri fanno da ponte ad un 2023 in cui avremo comunque Giove a favore nella quinta casa della creatività, dell'espressione, della fortuna e proprio anche della procreazione quindi è un anno in cui molte coppie potrebbero diciamo allargare la famiglia con un nuovo arrivato. Però quello che è più importante secondo me è che con Giove nella casa del romanticismo molte coppie riscoprono anche un po' il piacere di stare insieme dopo anni di grande costruzione ma anche molto faticosi e quindi è proprio la qualità del rapporto che cambia. Anche per i single, specie per i più scoraggiati quelli che arrivano sin qui senza grandi prospettive il 2022 può essere davvero l'anno di un nuovo importante amore ma prima ancora delle possibilità di incontro che sono tantissime questo Giove nella quinta casa gli restituisce il fascino, l'autostima la capacità di piacersi e di piacere per cui sicuramente è proprio un risveglio che trova i suoi momenti migliori per gli incontri nel mese di maggio poi ancora nel mese di agosto e nuovamente nel mese di ottobre. C'è da dire che l'anno inizia con single che forse non hanno del tutto voglia di impegnarsi in una nuova storia in certi casi magari si dicono anche non ci ricasco più inizia con persone che sono in coppia ma che si sentono quasi single per cui i primi mesi servono anche un po' a rispondere ad una domanda di base cioè voglio stare da solo o voglio stare in coppia e questo porta a sciogliere anche tutta una serie di nodi che stanno più in profondità. Una volta superato questa fase inizia sicuramente un momento di grande ricrescita per le coppie ma soprattutto di grandi opportunità d'incontro per i single come dicevamo. Insomma un anno di grande riscatto che per certi versi è come se ti restituisse il passaporto perché il sagittario è il grande viaggiatore vive bene in movimento negli ultimi anni è stato più bloccato ma sono serviti a mettergli i giusti visti oggi sì che può andare dove vuole e in una vita più bella e più appagante. Giustizia è fatta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.